Ci colleghiamo con Hong Kong dove troviamo Paola Caronni. Ciao Paola! Ciao Luigi, ciao Mike, ciao Angie. Un saluto particolare a tutti i telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Paola è l'autrice di Uncharted Waters, raccolta di poesie che rappresenta un viaggio da ovest a est. Paola, quali sono i temi del libro? Sì, il tema principale del libro, da come si può evincere dal titolo, è l'acqua. L'acqua in tutte le sue forme, fiumi, laghi, mari, oceani, piscine. Però il libro e le acque inesplorate in realtà sono anche i territori ai quali si pensa di appartenere, ma che in realtà non si conoscono mai abbastanza bene. In particolar modo per chi come me si è spostato e si è trapiantato in un altro luogo, si resta sempre un po' sospesi perché si torna nella propria madrepatria, o nel luogo d'origine magari un paio di volte all'anno, e nello stesso tempo si vive qui, ma si vive in maniera sempre un po' diversa rispetto alla popolazione locale. Quindi c'è questo tema del noto e dell'ignoto, della conoscenza del luogo, ma a volte anche della mancata appartenenza. Poi, metaforicamente parlando, le acque non mappate sono anche le acque dell'oceano, della lingua inglese, che rappresentano una sfida affascinante, ma sono sempre comunque piene di insidie. Il libro è diviso in quattro parti. La prima parte è Hong Kong e come la vedo, come la vedevo, come si è trasformata nel tempo. L'altra parte riguarda l'Asia e altri luoghi, in particolar modo l'Asia direi. La terza parte è l'Italia, con ricordi dell'infanzia e anche fatti recenti. E l'ultima parte sono delle riflessioni più generiche sulla vita. Tra l'altro è un libro scritto in inglese, come mai? È un libro scritto in inglese perché comunque io ho sempre avuto questa grande passione per le lingue, in particolar modo per l'inglese. Quindi ritorniamo all'epoca del liceo linguistico, per poi passare tramite l'università. Quindi lo studio della lingua è sempre continuato, fino qui ad Hong Kong, quando ho frequentato un master di scrittura creativa. e ho iniziato a scrivere più seriamente in inglese, non solamente poesie. Poi, frequentando il circolo di poeti qui a Hong Kong, la cui lingua franca è l'inglese, è chiaro che questa cosa mi ha spinto a scrivere decisamente, solo ed esclusivamente in inglese, perché, insomma, se volevo rendere note le mie composizioni poetiche, dovevo, insomma, scriverle in inglese. Però io scrivo direttamente in inglese, non traduco la poesia dall'italiano. È un processo diretto. E questo processo diretto mi ha permesso sicuramente di approfondire la conoscenza della lingua, di affinare le mie capacità, se vuoi, come poeta, perché comunque ci sono tante cose in ballo quando si scrive poesia, non solamente la lingua in sé, ma i suoni, il ritmo, tante cose. E quindi sono molto grata di questa continua sfida, che proseguirà, penso, per sempre. Uncharted Waters ha vinto il Prover's Prize 2020 e soprattutto un grant, una sovvenzione, dall'Hong Kong Arts Development Council. Intanto, complimenti! Cosa significa ricevere un grant per un libro scritto in inglese quando la popolazione di AK parla per lo più la lingua cantonese e quindi scrive in cinese? Sì, mi ha fatto molto piacere certamente vincere il Prover's Prize perché è un premio al quale prendono parte molti poeti da tutte le parti del mondo ed è molto importante la sovvenzione da parte di Hong Kong Arts Development Council che viene concessa nel momento in cui si pensa che l'opera in sé possa avere anche un significato all'interno per la popolazione locale che non è per la maggior parte parlante inglese. Quindi qui si parla il cantonese che è un dialetto della zona di Hong Kong e di Nguandong, la lingua ufficiale della madre patria è il mandarino, l'inglese viene certamente utilizzato soprattutto per business e finanza, però da quando Hong Kong è tornata alla Cina sicuramente non lo si parla bene come prima e quindi questa sovvenzione significa che il libro potrebbe essere utilizzato magari all'interno di scuole o di associazioni che promuovono la lingua inglese, magari per i ragazzi che studiano o che si avvicinano alla poesia inglese scritta in loco. Quindi ci sono varie possibilità oppure si parla dello scrivere in lingua inglese, scrivere in maniera diciamo creativa in lingua inglese come ho fatto quando c'è stata la presentazione del libro alla società Dante Alighieri e i partecipanti, molti erano locali, hanno anche loro parlato delle loro sfide nel voler utilizzare altre lingue per esprimersi in modo creativo. Quindi sono stata molto felice di questa opportunità, ecco, molto. Paola, dove è possibile acquistarlo? Sì, il libro è acquistabile in tutti gli store online di Amazon, quindi amazon.com, amazon.it, si presenta in questo modo con copertina disegnata, disegno di copertina di mia figlia che è un'artista e poi cercando Paola Caronni, Uncharted Waters. Chiudiamo con un telegramma da Hong Kong. Come mai sei lì? Da quanto? E soprattutto com'è la comunità italiana? Io sono in Asia da parecchio e tutto è cominciato con la mia tesi di laurea che trattava di Hong Kong, una tesi di laurea letteraria che però trattava di Hong Kong e poi da allora praticamente non dico che non sono mai tornata, ma insomma tutto è diventato più complesso e sono qui stabilmente dal 2005 perché avevo fatto un periodo a Hong Kong, poi sette anni a Singapore e poi sono ritornata a Hong Kong. La comunità italiana è molto attiva e anche dal punto di vista culturale. Abbiamo l'Istituto Italiano di Cultura, abbiamo la Dante Alighieri, abbiamo la Biblioteca Italiana che ha aperto da poco, abbiamo la scuola supplementare, la scuola Manzoni, abbiamo l'Associazione Donne Italiane che promuove la cultura e fa tantissimo lavoro di beneficenza, poi abbiamo anche dei religiosi che aiutano la popolazione locale proprio come beneficenza e poi abbiamo attività sociali promosse dal Consolato, dalla Camera di Commercio italiana, promosse dall'Istituto per il Commercio Estero. anche se ci siamo ridotti a causa della pandemia e delle varie difficoltà e delle varie quarantene, direi che comunque la comunità italiana resta sempre molto attiva a Hong Kong. Grazie mille, Paola!